Era partito lo scorso 28 dicembre dalla stazione di Montebelluna per trascorrere il capodanno con la fidanzata in Toscana follonica Carlos Ivan De Altin, 27enne bassanese di origine ma residente da qualche tempo nella città trevigiana. Un periodo di festa che si è trasformato in dramma. Già il giorno dopo il 29 il giovane è iniziato ad accusare pesanti sintomi, febbre alta circa 40 gradi e macchie rossastre e violacee sulla pelle che ben presto da un primo referto si sono rivelate essere delle microemoragie dei vasi sanguini. Da massa marittima De Altin è stato portato all'ospedale centrale di Grosseto dove le sue condizioni sono precipitate tanto da trasferirlo nel reparto di terapia intensiva, qui espirato il primo giorno dell'anno. Il decesso in base agli esami di laboratorio sarebbe da attribuire a una sepsi fulminante da meningococco ancora in attesa di tipizzazione. Praticamente quindi devono ancora fare tipizzazione del meningococco, comunque sono stati ovviamente informati subito i contatti stretti, è stata fatta quindi un'indagine epidemiologica sia a Grosseto che qua da noi. La profilasse al momento coinvolge da un lato i familiari a Montebelluna con cui viveva, ovvero la madre e il compagno, dall'altro tre amici residenti nel Bassanese dove Carlos aveva mantenuto i rapporti più stretti dopo aver vissuto nella zona di Rosà. Rassicurazioni precise arrivano anche dal sindaco Bordin. Stiamo monitorando la situazione di concerto con l'Ulse, in particolar modo con l'ufficio igiene. Il ragazzo ha avuto dei contatti stretti con poche persone, prevalentemente i familiari, i quali sono già stati sottoposti nei giorni scorsi a profilassi. La profilassi quindi è in corso ma la cerchia dei contatti di fatto è chiusa, resta il cordoglio per una morte improvvisa. Io mando il mio abbraccio virtuale e l'abbraccio di tutta la comunità Montebellunese ai familiari di questo ragazzo perché questa è una tragedia ovviamente indescrivibile, quindi questo è il minimo che io possa fare.